Ciao a tutti diavoletti, sono le tre di notte, lasciate un mi piace se volete essere salutati. Ok, avete visto il tasto mi piace? Avete lasciato un mi piace? Siete super bravissimi! Ok, ma adesso commentate con questa parola. Rosso? Eh sì, dovete commentare con questa parola. Avete dieci secondi di tempo. Dieci, nove, otto, sette, state aprendo la tastiera? Sei, cinque, quattro, tre, commentate con rosso, due, uno... Oh, avete scritto rosso sotto i commenti? Ok, oggi salutiamo, salutiamo... Sto scegliendo, sto scegliendo dai commenti dell'ultimo video. Vediamo chi salutare. Ok, tutti i commenti, sto leggendo tutti i commenti. Oggi salutiamo Emanuele. Emanuele3401, ciao! Ciao Emanuele! Commentate sotto tutti i video, così avrete tantissima possibilità di essere scelti. Ok, ma ora sono le tre di notte. Eh sì, sono le tre di notte e Vinci sta dormendo. Che ansia. Vinci sta dormendo e io sono qui sveglio. Sì, sono sveglio. Eh, non riesco a dormire. No, non riesco a dormire. Non riesco proprio a prendere sonno. Cosa devo fare? Devo sedermi e guardare un po' di tv? Cosa devo fare? Non so cosa fare. Vinci sta dormendo e non posso svegliare Vinci perché sono le tre di notte. Adesso guardo un po' di tv. Ehm, cosa? Un messaggio sul computer? Ciao Anto, sono le tre di notte. Voglio parlare con te. Ok, un messaggio molto strano. Chi è che vuole parlare con me alle tre di notte? Chi sei? Ehi tu, chi sei? Chi sei? Perché vuoi parlare con me alle tre di notte? Chi è che mi sta mandando messaggi? Cosa? Vuoi sapere chi sono? Sì, chi sei? Dai, dillo. Tutti vogliamo sapere chi sei. Chi sei? Perché stai mandando messaggi alle tre di notte? Chi sei? Rispondi. Che ansia. Perché non risponde? Ok, siamo da soli. Ok. Chi sei? Chi sei? Sono Spider-Man? Spider-Man? E perché mi stai mandando messaggi? Ok. Perché Spider-Man mi sta mandando messaggi? Ok. Ecco Spider-Man. Che ansia. Ciao Anto. Cosa? Sei da solo di notte? Sì. Ottimo. Devi diventare Spider-Man per tutta la notte. Tutta la notte? Devi sconfiggere tutti i nemici e proteggere la città. Oh no. Entra nel mio nuovo gioco. Nel tuo nuovo gioco? Cosa? Diavoletti, guardate. Sono Spider-Man. Ma Spider-Man è in pericolo. Quindi dobbiamo salvare subito Spider-Man. Oh no no no. Perché stiamo annegando? Eh sì, stiamo annegando. Cosa sta succedendo? Diavoletti, guardate. Noi stiamo annegando. Siamo sott'acqua. Ok. Devo salvarmi. Sì, devo salvarmi. E' tutto così serio. Cosa? Ora che sei Spider-Man, non ti preoccupami di noi. E' una macchina. Ok. Siamo chiamati. Sta succedendo qualcosa di brutto a Spider-Man. Dobbiamo risolvere questa cosa. Sì, dobbiamo risolvere questa cosa. Dove devo andare? Non capisco. Ok. Dove devo andare? Che ansia, che ansia. Ok. Lì? Ok. Ok. Siamo sott'acqua. Siamo sott'acqua. Ok. Andiamo sempre avanti. Andiamo sempre avanti. Ok. Non capisco. Non capisco. Ma perché siamo sott'acqua? È la fine di Spider-Man? Cosa sta succedendo? Resta poco tempo? Eh? Cosa? Oh! Ma perché siamo sott'acqua? Oh no! Spider-Man sta annegando! Sta annegando! È la fine di Spider-Man! Oh! Ok. Cosa sta succedendo? È la fine di Spider-Man. Sì, devo uscire da qui. Ok. Dai! Devi uscire Spider-Man! Trova una mia uscita! Cosa? Sono uscita! Sono uscita! Sono uscita! Ok. Adesso cosa succederà? Eh? Ti andrò fuori! Cosa? Non ti andrò! Eh? Eh? Cosa sta succedendo? Lì? Eh? 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 Ti andrò fuori! Eh? Eh? Cosa? Cosa? Non così. Sta annegando? Dobbiamo salvarlo ma non ci riusciamo? Oh no! Cosa? Ma perché più ci stanno annegando oggi? Oh no! Cosa sta succedendo qui? Eh? Non capisco! Libero! Eh? Nostra! Cosa? Stanno liberando tutti i criminali! Stanno liberando tutti i criminali! Oh no no no! Vogliono colpirmi! Vogliono colpirmi! Vogliono colpirmi! Ma... Non ci riusciranno! Guardate! Eh sì! Sono molto bravo! Già! 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 Ok! Non mi colpirete mai! Ok! Sono molto bravo! Sì! Sono Spider-Man! Molto! Ok! Aiuto! Vogliono colpirmi! Vogliono colpirmi! Avete visto? No 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 no! Ok! Ok! È molto difficile! Molto difficile! Ok! Ecco fatto! È molto difficile! Molto difficile! Ma noi ci riusciremo! Oh no no no! Vogliono colpirmi! Vogliono colpirmi! Ok! Dobbiamo schivare! Dobbiamo... Oh no no no! Oh no no no! Ok! Dobbiamo schivare tutti i colpi! Dobbiamo... Oh no 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 no! No 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 no! Ok! Aiuto! Aiuto! Vogliono colpirmi! Vogliono colpirmi! Oh no! Mi ha colpito! Ok! Già! Ah! Ok! Ok! No 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 no! No 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 no! No 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 no! Guardate! Ah! Ecco fatto! L'ho fatto fuori! Oh no no no! Ah! Adesso stanno continuando a colpirmi! Ma io... Ah! Adesso... Salgo qui... E li sconfigo! Già! Ecco fatto! Oh no 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 no! Perché vogliono colpirmi? Perché vogliono colpirmi? Già! 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 Ecco fatto! Ok! Essere Spider-Man è molto difficile! Già! Già! Ecco fatto! Ok! Oh no! E ancora in piedi! Già! Già! Quello! Ok! Già! 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 Ecco fatto! Ok! Ce l'ho fatta? Sì! Ce l'ho fatta! Usciamo da qui! Usciamo da qui! Diavoletti! Oh no! Cosa sta succedendo qui? Oh! Che ansia! Che ansia! Ah! Ok! Stiamo tirando quella gabbia! Stiamo tirando quella gabbia! Cosa sta succedendo? Oh! Perchè ci sono tanti guai? Oh! Oh! Ok! Cosa succede qui? Speriamo di non finire dentro l'acqua perché non sappiamo nuotare! Ok! Sta andando tutto in fiamme! Tutto in fiamme! Ok! Ah! 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 Ok! Che ansia! Che ansia! Diavoletti! Aiuto! 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 Oh! Ecco fatto! Dai! Facciamo cadere tutti in acqua! Facciamo cadere tutti in acqua! Andate via! Già! Ok! Abbiamo fatto cadere tutti in acqua! Ok! Che ansia! Oh no 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 no! Ne stanno arrivando altri! Ne stanno arrivando altri! Oh no 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 no! 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 Ecco fatto! Essere Spider-Man è super bello! Ok! Ok! Attenzione! Tiamoletti! Dobbiamo far cadere tutti in acqua! Non devono colpirmi! Ok! Oh no 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 no! No 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 no! Ok! Oh no! Mi stanno colpendo! Mi stanno colpendo! Aiuto! Aiuto! È molto difficile! Molto! Molto difficile! Perché vogliono colpirmi? Mi stanno distruggendo! Da! 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 Ecco fatto! Dai! Facciamoli cadere tutti! Oh no no no! Ecco fatto! Dai dai! Ok! Stanno cadendo tutti in acqua! Stanno cadendo tutti in acqua! Ah! Ok! Andiamo sempre avanti! Andiamo sempre avanti! Che ansia! Che ansia! Dai! Ok! 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 Dai! Che ansia! Ok! Dai! Che ce la facciamo! Ce la facciamo! Guardate! Sono molto bravo! Da! Da! Ecco fatto! Oh no no no! Ok! Da! Oh! Da! Dai! Oh! Ho fatto quasi tutti fuori! Oh! Aiuto! Da! 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 Ok! Dai! Li stiamo sconfiggendo tutti! Che ansia! Che ansia! Dai! Non dobbiamo cadere in acqua! Non dobbiamo cadere in acqua! Oh che ansia! No! No! Ok! Da! Da! Ecco fatto! Ok! Tutti! Dovete cadere tutti in acqua! Sono finiti! Sì! Sono finiti! Oh! Ne stanno arrivando altri! Cosa? Lui è il super cattivo! Il super cattivo! Oh no! Vuole colpirmi! Vuole colpirmi! Cosa? Cosa ha fatto? Sta facendo... Esplodere tutta la nave! Oh no! Dobbiamo scappare! Non permetterti fretta! Ma l'istrivere è in fiamme! È in fiamme! Tutto è in fiamme! Un incendio! Ok! Sopravviviamo! Ad un incendio! Guardate! C'è un incendio! Ok! Oh no! Ci sono delle persone lì! E c'è un incendio! Dobbiamo salvare tutti! Dobbiamo salvare tutti! Oh! Da! Da! Ok! Stiamo salvando tutte le persone! Dai! Ok! Dai! Salviamo tutti! Salviamo tutti! Guardate! Sì! C'è un incendio! Dobbiamo scappare! Dobbiamo scappare! Non dobbiamo finire in ospedale! Ok! Ok! Che ansia! Che ansia! Che ansia! Cosa sta succedendo qui? No! 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 GA! Ok! Diaboletti, concentrazione! Lì c'è un incendio! No! DA! DA! Ok! Fermiamo quest'incendio! Oh no! Ci sono altri! Altri nemici! Ok! Basta! Basta! Non dovete disturbarvi! C'è un incendio! Qui c'è un incendio! Non dovete disturbarvi! Ok, basta Perché mi disturbate? Qui c'è un incendio, devo salvare le persone Dai Ma perché mi stanno disturbando? Io devo salvare le persone, c'è un incendio Ok Ok, mi ha buttato a terra Ok Che ansia, che ansia Oh no, vuole colpirmi Ok Ecco fatto, è a terra Ma ancora altri colpi Ok, oh no, no, no Dai, basta Basta, basta, basta Ecco, sei finito in acqua Questo ti meriti Ok E adesso Diavoletti, cosa succederà? C'è stato un incendio Tutte le persone devono scappare Cosa? Che ansia Cosa succederà adesso? Oh no, 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 le persone stanno finendo in acqua No, 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 no Aiuto Sì, abbiamo salvato quella persona Meno male Meno male Ok Vuoi di lasciarmi morire? Non hai idea di ciò che mi hai tolto Cosa? Cosa? Lo vogliono prendere Vogliono prendere il nostro nemico Spider-Man, let's go Il super cattivo vuole prendere il nostro nemico Ok Ma cosa sta succedendo qui? Una catastrofe Eh sì C'è una catastrofe qui Tutte le persone stanno cadendo in acqua Oh no Dobbiamo salvare tutte le persone Dai No, no, no Non finite in acqua Spider-Man, aiutami Dai Che ansia Che ansia Cosa succederà? Tutte le persone finiranno in acqua? Dai, vai ad aiutare le persone Bravo Ok Adesso Dobbiamo aiutare tutte le persone Basta Basta pensare al nostro nemico Ok 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 Ecco fatto Adesso Oh no, 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 no Ok Ok Tutti salvi Sono tutti salvi Meno male Le persone non sono finite in acqua Oh Io pensavo di finire in ospedale Pensavo di finire in ospedale Ok Andiamo sempre avanti Sono arrivati i soccorsi Sono arrivati i soccorsi Ok Oh Alcune persone sono cadute in acqua Sto ancora cercando Ma non c'è traccia di loro Dalla tua parte Sono detriti Chi erano quelli? Non lo so Ma avevano delle armi niente male Infatti E ora possono contare Su Scorpio e Martin Lee Ehi Chiunque fosse Li troveremo E fermeremo Sì Dobbiamo fermare i nostri nemici Che ansia Che ansia In te Quando ho visto Martin Lee Sulla nave I miei poteri Ecco Cos'è successo? Credi che la sua energia Abbia contaminato la tua Non lo so Mi sento Instabile Ok Non so da dove venga Quel blu elettrico Ma ci ha salvato Infatti abbiamo avuto Un nuovo potere Rimetteremo lì al suo posto Proverso Ci sono tantissimi nemici Che sono scappati Posso deprimervi un po'? Non ci provare E dai Ci sono tantissimi nemici Se proprio siamo Sono scappati tutti Dobbiamo riportarli in prigione Ok Andiamo sempre avanti nella storia Sono le tre di notte Ok E adesso Wow Abbiamo tantissime nuove tecniche Ok 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 diavoletti Adesso noi dobbiamo essere Spider-Man Per tutta la notte Si Ok Stiamo parlando Stiamo parlando Stiamo parlando Ehi zi Aaron Eh Sei troppo impegnato Per me No Volevo solo lasciarti in pace Tu che sei uscito Vai da lui E fanno a finire Ok Diavoletti Noi dobbiamo essere Spider-Man Tutta la notte Quindi adesso Dobbiamo continuare Con la storia Oh Non voglio finire in acqua Ok Ecco fatto Non sono finito in acqua Adesso dobbiamo Continuare la storia Evviva Che bello Essere Spider-Man Anche a voi piacerebbe Essere Spider-Man Wow Che bello Ok Ok Devo fare molta attenzione Con le ragnatele Potrei cadere in acqua Si Potrei cadere in acqua Ok Ma guardate E' così bello Essere Spider-Man Wow Wow Ok Ma guardate Qui vediamo tutta New York Vi piace New York? Ok Oh Sto cadendo in acqua Ok Non devo cadere in acqua Non voglio finire in ospedale Cosa? Lì c'è un crimine Diavoletti Visto che io sono Spider-Man Si Sono proprio Spider-Man Dobbiamo risolvere tutti i crimini Quindi sbrighiamoci E Andiamo subito A risolvere il prossimo crimine Ok Stiamo andando Stiamo andando Oh no 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 Ok Dobbiamo risolvere il prossimo crimine Dai diavoletti Che ansia Oh Qui ci sono le macchine Ok Il prossimo crimine E' proprio qui Cos'è successo? Cosa è successo qui? Ci sono delle persone Che vogliono attaccarmi? Ok Forse Dobbiamo colpirli Dobbiamo colpirli Sì Ok C'è un crimine qui Dobbiamo salvare le persone Dobbiamo salvare le persone Ok Dobbiamo risolvere questo crimine Dai diavoletti Siamo Spider-Man E dobbiamo risolvere questo crimine Dai Ok 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 Ecco fatto Oh Le persone sono in pericolo Sono in pericolo Già Basta Andate via Andate via Ehi tu Vai via Vai via Vai via Vai via Ok Oh Abbiamo salvato queste persone Sì Abbiamo salvato quelle persone Ok Andiamo Andiamo State bene? Tutto bene? Sì Adesso sembrano Stare molto bene Guardate Sono in piedi Ok Abbiamo sconfitto Quegli scagnozzi Eh sì Erano scagnozzi Andiamo avanti Andiamo avanti Nella storia Ok Abbiamo risolto il crimine Ma adesso dobbiamo andare avanti Nella storia Perché la storia È molto emozionante Quindi restate con me Tutta la notte Sì Restate con me Ok 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 Devo saltare Devo saltare Oh lì ci sono delle barche Che belle le barche Dai ci stiamo avvicinando Ci stiamo avvicinando Alla prossima missione Wow Che bello essere Spider-Man Che bello Vi piace? Guardate Possiamo usare le ragnatele Possiamo fare dei salti assurdi No 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 Devo vinire in acqua Che bello Oh ho anche le ali Avete visto le ali? Sì Le ali sono la mia cosa preferita Guardate Ho le ali ma Non so usarle No Non so usarle molto bene Ok È così bello Sì Possiamo usare le ragnatele A New York Che bello Ok Andiamo sempre avanti Andiamo sempre avanti Nella storia Cosa succederà Andiamo avanti Che bello Che bello Wow Ok Adesso siamo in un parco Sì Siamo in un parco Che bello Oh Posso usare le ragnatele Dappertutto È così bello Essere Spider-Man Wow Evviva Andiamo sempre avanti Nella storia Sto andando sempre avanti Andiamo Andiamo Oh 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 Ok Eccoci siamo arrivati Dove siamo adesso? Per forza tenere la maschera? Eh? Ci stiamo incontrando? Con una persona? Ok Rilassati Non voglio farmi pestare di nuovo da mio nipote Ah Sono suo nipote Ok Abbiamo tolto la maschera Anche tuo padre mi fissava sempre in questo modo Ok Abbraccino Momento cute Ehi Cosa succederà? Sono molto in ansia di questa storia Guardi Lo hanno liberato Si hanno liberato il criminale Non è colpa tua Non lasciare che viva qui È solo un'altra prigione Non è così semplice Non dobbiamo pensare a quel criminale Ma a volte devi mettere da parte il passato E lasciare spazio al futuro Si Si deve sempre pensare al futuro Per questo ti ho chiamato Mi serve una cosa Cosa ti serve? Parei da solo ma Vecchia tecnologia che voglio recuperare Nascosta in un laboratorio Rockson a Central Park Si ho presente Ok Ehi aspetta Abbiamo dimenticato Si abbiamo dimenticato la maschera Riguardoli Sii prudente Dobbiamo fare molta attenzione con il criminale Ok rimettiamoci la maschera di Spider-Man Andiamo Ok adesso dobbiamo risolvere questa missione Eh si Adesso dobbiamo recuperare delle tecnologie Dobbiamo recuperare delle tecnologie Eh si Andiamo sempre avanti Dai Dobbiamo risolvere questa missione Dobbiamo risolvere questa missione Andiamo Oh ok è lì Si è lì Oh no 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 Perché sono caduto? Ok devo imparare bene ad usare le ragnatele Ok Ecco fatto Adesso corriamo su questo palazzo Andiamo sul tetto Ecco fatto E adesso Cosa dobbiamo fare adesso? Sono qui Ok Cosa devo cercare? Eccoci Usa gli occhi di butte Cosa? Ho caricato un codice di brawler Quando ho scambiato la maschera Ovviamente Il bottino resta nascosto Finché non rileva il codice della tuta Cosa? Ok Devo cercare un codice? Ok Diavoletti Cerchiamo questo codice Dov'è questo codice? Non lo so Ok Appena troviamo un codice Avremo risolto questa missione Ma dov'è questo codice? Andiamo Forse qui? Cosa? L'ultimo passo è di cifrare la chiave Abbiamo trovato qualcosa Ok Come si fa? Come si fa? Diavoletti È molto difficile Non male ragazzo Ok E adesso cosa devo fare? Wow Un'altra porta Una porta? E adesso? Wow Ok Devo sbloccare anche questo codice? Ok Ok Questo è molto difficile Molto difficile ma Ci sono riuscito Ci sono riuscito Ok E adesso? Cosa devo fare? Già Ecco fatto Ho aperto questa porta Quasi meglio di bravo Wow È un laboratorio segreto Diavoletti? Diavoletti Abbiamo scoperto Abbiamo scoperto un laboratorio segreto Guardate Sì Questo è un laboratorio segreto? Sì È proprio segreto Ci troviamo In un laboratorio segreto In un laboratorio tutto segreto Wow Che cos'è questa maschera? È la maschera di un alieno? Oh Wow Che bello Andiamo sempre avanti Andiamo sempre avanti Ok Adesso Cosa? Cosa stiamo prendendo? Mmm Cosa? Abbiamo preso qualcosa? Ok E adesso cosa dobbiamo fare? Puoi vedere tutto Tecnologia di qualità Ok Abbiamo tantissima tecnologia Oh Wow Grazie E fatti sentire Chissà cosa ne pensava la mamma Vediamo che succede Ok Diavoletti Ok Diavoletti Adesso Ok Diavoletti Sono proprio Spiderman E sono le tre di notte Quindi adesso dobbiamo darci da fare? Sì Dobbiamo proprio Darci da fare Guardate Siamo per strada Oh No Sto spaventando tutte le persone Non posso spaventare tutte le persone Ok Stiamo continuando a camminare Stiamo continuando a camminare Ok Camminiamo Camminiamo Qui c'è la polizia Guardate Qui c'è la polizia Ok Andiamo sempre avanti Andiamo sempre avanti Secondo me ora sta per succedere qualcosa Di molto epico Quindi restate Oh Oh no Non voglio essere investito Non voglio essere investito Quindi Attenzione Sono Spiderman E non voglio essere investito Non voglio andare in ospedale No Non voglio andare in ospedale Ok Stiamo camminando per la città Ma ora succederà qualcosa di molto epico Ne sono certo Ne sono certo Cosa E adesso Ok Dove dobbiamo andare Wow Dobbiamo andare in un posto Ok Andiamo Che bello Che bello Ero al telefono con Harry Wow Questa cosa della fondazione Potrebbe funzionare Ho buone notizie anch'io Ho indagato sulla tecnologia Usata da chi ha attaccato il compaglio carcerario Ok Ok Stiamo andando in un posto super bello Eh sì Stiamo andando in un posto super bello Ehi ciao Sono Spiderman Come state? Perché siete seduti E non mi guardate? Ehi Sono Spiderman Adoro quei colori Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Sì Dobbiamo andare sempre Avanti Ok Che ansia Che ansia Stiamo andando in un posto In un posto magnifico Che bello Che bello Essere Spiderman è così bello Wow Stiamo andando in un posto Dove stiamo andando secondo voi? Ok Andiamo Andiamo Voglio continuare la storia Voglio continuare la storia Oh 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 È così bello questo gioco Vinci non sa niente Non sa che sto giocando alle 3 di notte Eh sì Vinci non sa che sto giocando alle 3 di notte A Spiderman Ah 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 Ok Oh 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 ok Attenzione Attenzione Ok Andiamo Oh Ok Siamo quasi arrivati Siamo quasi arrivati La strada è molto lunga Ma con le ragnatele si va molto più veloce Ok Oh 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 Si vola Guardate Ok Avete visto com'è bello volare? Oh 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 Si vola Si vola Wow oh oh Ok Dai siamo quasi arrivati Siamo quasi arrivati Ok Dai dai Siamo arrivati Siamo arrivati Adesso cosa succederà? Che bello Dove siamo? Wow wow Chiedevo giusto Cosa fosse questo Cosa? Dove siamo? Ok vediamo cosa succede Vediamo Wow Abbiamo tolto il costume Guardate Siamo Normali Siamo normali Ok Cosa Cosa succederà? Che ansia Che ansia Un altro attacco? Un altro incendio? Non voglio finire in ospedale Wow Avevo definito Era soltanto una start up Sì sì I miei progetti Non doveva essere Così Ma ci ha messo mano Anche mio padre Peter Parker Ok si ricorda di noi Si ricorda di noi Cosa ne dici? È magnifico Direi che è tutto un altro mondo Rispetto a quello che vai a dio E adesso che sei Orrudo Questo progetto potrà finalmente Wow È così bello questo posto Avete visto che bello questo posto? Wow Che bello Quante piante Sì voglio vedere questo posto? Voglio prima vedere questo posto Dai Che bello Che bello Ok andiamo Dai Facciamo un tour Facciamo un tour Che bello Che bello Dai diavoletti Stiamo per scoprire un posto super bellissimo Andiamo avanti Dai guardate con me La prima cosa che voglio mostrarvi è di sono Cosa vuoi mostrarmi? Questo posto è vero Sì è magnifico Guardate Ma come è organizzato un po' Wow Guardate Ok dove sei? Eccoci Ok guardate L'ascensore è super bella Sì è super bella Questo ascensore Ok questo posto è magnifico Ok Dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Mi sta mostrando qualcosa di super epico Dai Andiamo Andiamo Guardate queste piante Sono stupende Oh ma ci sono le api Ci sono le api in queste piante Non avviciniamoci Non vogliamo finire in ospedale Vieni Vieni Stiamo andando Ok Dove stiamo andando? Dove mi stai portando? Pronto a parlare con gli altri Con chi? Tu devi essere il tuo È un piacere Oh un piacere Cosa? Lavora con le api? Sì ma non farmi pungere Oh che carine le api Wow Guardate le api Dobbiamo aiutare le api Dobbiamo aiutare le api Oh Diavoletti Dobbiamo aiutare le api È fantastico Questi piccoli Andrugno Sono sentienti Stiamo andando A non uscire E attaccare le api Cioè Non stai mai mangiare E stai contribuendo Cosa? Dobbiamo sconfiggere Questi insetti Che mangiano le api Eh sì Questi insetti Mangiano le api Diavoletti Dobbiamo salvare le api Quindi sconfiggere Da Quindi sconfiggiamo questi insetti Eh sì Dobbiamo eliminare questi insetti Guardate Sono insetti E dobbiamo eliminarli Perché questi insetti Eliminano le api Eh sì Ecco fatto Ok Basta eliminare le api Basta eliminare le api Sì Ok Stiamo eliminando tutti questi insetti Dai Ecco fatto Ne mancano altri dieci Dove siete? Ehi Sono qui Guardate Sono qui Ecco fatto Sì Ok un altro Ok Che ansia Che ansia E' così bello Usare questo aggeggio Dove sono questi insetti Che eliminano le api? Dove siete? Ok Stiamo cercando questi insetti Stiamo cercando questi insetti Oh Eccoli Ok Oh Sono insetti super giganti Sì Sono insetti super giganti Che Eliminano le api Ok Ecco fatto Ecco fatto Ok Ne mancano altri cinque Ecco Un altro Ok Un altro insetto Ecco fatto Andiamo sempre avanti Dobbiamo trovarli tutti Eccoli Ok Questi insetti Vogliono Eliminare le api? Non si fa Oh Le api sono così carine Ok Qui c'è un altro insetto Dai Prendiamolo L'ultimo Ecco fatto Wow Ce l'ho fatta Grazie E' stata una sessione produttiva Grazie E prego Sono stato molto bravo Ho eliminato tutti gli insetti Che eliminano le api Guardate Voglio salvare tantissime api Ogni giorno Che bello Salviamo le api Salviamo le api Ok Molto altro da farmi vedere Che bello Questo posto è magnifico Hai un secondo Ti richiamo dopo Sto facendo un tour Perché l'altro Spider-Man vuole Vuole disturbarmi Io sono in un posto Così magnifico Guardate Così bello Queste piante Sono così belle Guardate Che bello Questo posto Ok Sì Seguiamo Seguiamo l'altra persona Non possiamo perderci In questo magnifico posto Andiamo sempre avanti Andiamo sempre avanti Stiamo facendo un tour Ok Cosa? Ok Parliamo con un'altra persona Non si può aspettare Sarò veloce Cosa? Doc Lui è il mio amico Peter Peter e il dottor Connors Ci conosciamo già Ok Stiamo parlando fra di noi Dai Ok Meno male che sta meglio Aveva una malattia Ok Dai Cosa vuole mostrarmi Diavoletti Non avete ansia? Non è stato meglio È stato un piacere Senti Io devo fare una telefonata Tu continui a curiosare Se vuoi Vuoi Mi trasporti sopra Ok Continuiamo Continuiamo a curiosare Questo posto È super bellissimo Oh che bello Che bello Guardate Che bello Questo posto Questo posto È super bellissimo Wow Che bello Che bello Ok Stiamo facendo un giro In questo posto Ma adesso voglio uscire Ma adesso voglio uscire Basta Voglio diventare di nuovo Spider-Man E sconfiggere i miei nemici Oh Cosa stanno facendo lì Stanno Stanno curando le piante Guardate Questa persona sta spruzzando l'acqua sulle piante Dovrei esplorare il più possibile Sì È così bello esplorare Perché questa persona sta pulendo le piante Guardate Oh che bello vedere le persone che puliscono le piante Questo gioco è super magnifico Super magnifico Ok Ma adesso basta Non possiamo guardare le persone Adesso dobbiamo uscire da questo posto Basta dai Ok E adesso Guardate È tutto magnifico Tutto magnifico qui Stiamo esplorando tutto Wow Ispira al lavoro di Otto Senza i problemi di un sesto Ehi Ma che servono queste biciclette? Ah Biciclette? Stiamo lavorando a batterie super efficiente Ricaricate a pedali Wow Sono biciclette Ancora no Ma quando saranno pronte Ci servirà qualcuno Voglio provare io questa bicicletta Allora tornerò Sì tornerò a provare questa bicicletta È una bicicletta innovativa Oh 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 Droni? Sì È una piccola collaborazione Tra i reparti energetici E quello d'acolo Wow Ape i droni Avete visto? Lo faranno Quando li apriamo mano Ape i droni È incredibile Grazie Wow Bello Ok Stiamo Stiamo scoprendo nuove cose Sì Stiamo scoprendo nuove cose Raggiungimi Sì sì Un attimo arrivo Dobbiamo raggiungere Sì Dobbiamo raggiungere Non posso far aspettare No Non posso far aspettare Harry C'è così tanto da vedere Ma basta C'è così tanto da vedere Ma basta Adesso dobbiamo andare da Harry Sì Dobbiamo andare da Harry Questo posto è super magnifico però Oh Mai visto un posto così Bello Ok Andiamo diavoletti Andiamo Dai che dobbiamo restare Tutta la notte A giocare a Spider-Man Wow Che bello Hanno tantissime cose qui Che bello Che bello Una dove si va Ultimo piano Ultimo piano Si è pieno di energia Harry Così Ok Perché stiamo andando all'ultimo piano Ok E perché Forse ho qualche novità per te Perché ci sta chattando L'altro Spider-Man Ho un impegno Ma perché non parliamo con l'altro Spider-Man Non è che è successo qualcosa Non è che è successo qualcosa di brutto All'altro Spider-Man Perché ci sta chattando Ci sta mandando messaggi Ok Noi siamo impegnati Siamo impegnati con questo impegno Non possiamo rispondere all'altro Spider-Man Ma secondo me è successo qualcosa di brutto Ok Stiamo andando all'ultimo piano Questo è l'ultimo piano Guardate È l'ultimo piano Wow Ok Che ansia Che ansia Perché non capisce questo Spider-Man Che l'altro Spider-Man è in pericolo Oh Grazie Ok vediamo Ah Tu sei P Giusto R parla spesso Ok È un vero piacere Il dottor Foster si occupa di efficienza agricola Wow Che bello Un tornado? Avete visto il tornado? Per una ricombinazione genetica Possiamo risolvere problemi Per le continuazioni Nei quali in vista estremi Un aumento dei parassiti Ok 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 Guardate Che bello Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Successo Sì Successo Sono stato molto bravo Guardate che bella piatta Oh Devo farlo di nuovo Ok Dai Che ansia Già Ecco fatto Ho completato anche questa Wow È stato così bello Successo Sì Guardate Che bello Che bello Ancora Ecco fatto Wow Ho completato anche questo Ho completato anche questo Dai Successo Evviva Ma Ma perché non stiamo pensando all'altro Spider-Man? L'altro Spider-Man Sta continuando a mandarmi messaggi Andare Devo andare Ultima tappa Ultima tappa? Non posso Devo Devo chattare con Spider-Man L'altro Spider-Man Che ansia Che ansia Che ansia Non decidi Diciamo Ok Un'ultima cosa Vediamo un'ultima cosa Dove L'ho messo Non dirmi che l'hai perso No Non sono solo L'armi Eccolo Ok Dobbiamo vedere un'ultima cosa Ma non possiamo Essere distratti No Non possiamo essere distratti Noi siamo Spider-Man Non possiamo essere distratti Questo è l'ufficio Wow Che bello Quest'ufficio Sei Spider-Man Sì Non puoi lavorare qui dentro Sei Spider-Man Non hai tempo Quando ero in cura Pensavo a cosa Cosa avrei Fatto se fossi sopravvissuto Ok Momento emozionante Sentivo la voce Di mia madre Diceva che il pianeta E' in pericolo E che sta a me A salvarlo Cosa? Insieme Noi potremmo fare Tutto di più Ma io sono Spider-Man Ma io sono Spider-Man Sei tu quella gente No? Ma va avanti Non posso lavorare Mia madre e me Mi sarebbero fiere Forse posso pensarci? E' grandioso Ma c'è un problema Sono Spider-Man C'è un problema Posso spostare La mia scrivania Preferisco avere Una parete Cosa? Ok Lavoriamo insieme Lavoriamo insieme A questo progetto Un'altra cosa Wow Che bello Benvenuto Peter Cioè benvenuto Anto Sì Ok ma il telefono Sta continuando a squillare Mi serve solo Un po' di tempo Per chiudere Il lavoro Come tutto E poi Sì 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 Ma c'è Certo Fai con calma Quest'è 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 L'equilibrio C'è C'è Ok 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 Ok, adesso dobbiamo andare, dobbiamo andare, chissà dove stiamo andando, che bello, wow, wow, cosa stiamo facendo? Una nuova missione? Eh sì, mi piace molto essere Spider-Man, guardate che bello, sì, Spider-Man, Spider-Man, ok, andiamo avanti. Andiamo avanti, dai diavoletti, dai stiamo andando sempre avanti, stiamo andando sempre avanti, ok, ok, andiamo sempre avanti, ok andiamo a vedere cosa succede, andiamo a vedere cosa succede lì, sta succedendo qualcosa, ok. Non c'è nessuno qui, sono al ponte, sì, no, non c'è nessuno, scusate per il giro a vuoto, non c'è problema, 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 dobbiamo trovarli. Cosa? Oh no, no, non c'è problema, 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 non c'è problema Cosa? Ma cosa, cosa? Ok, sono qui, sono qui Oh no, 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 no No, ok Oh, che ansia, che ansia, cosa? Ok, aiuto, aiuto Oh no, oh, vuole colpirmi Ok, diavoletti, abbiamo trovato I nemici? Sì, abbiamo trovato i nemici Ok, ok Dai, 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 dai Ok, sconfiggiamoli tutti Sconfiggiamo tutti i nemici Che ansia, che ansia Ok Dai, dai, sconfiggiamo tutti i nemici No, 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 no Ok, ok Oh, che ansia Dai, dai, sconfiggiamoli tutti Sconfiggiamoli tutti Ok, oh no, 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 no Dai, sconfiggiamoli tutti Ok, che ansia, che ansia Dai Oh no, vogliono colpirmi Vogliono colpirmi Oh, cosa sono questi oggetti volanti? Diamoletti, ne sono tantissimi Ne sono tantissimi Ma noi dobbiamo colpirli Dobbiamo colpirli Ecco fatto Ok Dai Ecco fatto Ecco fatto E adesso Meglio dare un'occhiata Sì, meglio dare un'occhiata Cosa abbiamo qui? Dobbiamo esaminare tutto Dobbiamo trovare qualcosa Ok Stiamo esaminando Stiamo esaminando Adesso troverò qualcosa Mi sposta Cosa? Vai Un uccellino? Do Cosa? Dove mi sta portando? Diamoletti? Dove mi sta portando? Ok L'uccellino? Dobbiamo seguire Quell'uccellino Ok Dove mi sta portando? Dove mi sta portando? Che ansia Che ansia Oh, guardate Diavoletti Quell'uccello Sta volando per la città Ok Dobbiamo seguire Quell'uccello Magari ci porterà Dagli altri criminali Eh sì Forse ci porterà Dagli altri criminali Dai Diavoletti Più veloci Più veloci Che ansia Che ansia Ok Dobbiamo andare sempre avanti Sempre avanti Ok Dobbiamo seguire Quell'uccello Dobbiamo seguire Quell'uccello Che sta Anche colpendo Si sta anche colpendo Per non farsi seguire Ok Che ansia Che ansia Ok Dobbiamo seguire Quell'uccello Dai Andiamo sempre avanti Andiamo sempre avanti Oh no Lo sto perdendo Lo sto perdendo di vista Lo sto perdendo di vista Ok È lì È lì Diavoletti Attenzione Sempre più in alto Ma non scappi Sempre più in alto Dai Andiamo andiamo Forse siamo arrivati Sì Siamo arrivati Guardate Un'altra Protezione Un'altra protezione Oh no Ottimo avvertimento Abbiamo scoperto Un altro Un altro Nascondiglio Dai Sì Vi spiace Adesso dobbiamo sconfiggerli Dobbiamo sconfiggerli Abbiamo scoperto Un altro Nascondiglio Sulla tue basi occultate Diamo Forse non può fare In modo che Sulla Dicchie le frequenze Dicchie Dicchie Non vedo il posto Dicchie Dove si nasconde Dicchie Non voglio parlare Dicchie 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 No No Perché non ci riesco Perché non riesco Ad attaccarli Ok Oh no Voglio non attaccarmi Voglio non attaccarmi Ma Non ci riuscirete Non ci riuscirete mai Ok 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 Ecco fatto Guardate Sono molto bravo Sì Sono molto No Ok Ok Ecco fatto Ok Ok Che ansia Che ansia No Ti colpisco Ti colpisco Ti colpisco Ti colpisco Ok Diavoletti Ok Dov'è il vostro capo? Sì Dobbiamo trovare il capo Oh Già Ok Sono molto arrabbiato Sono molto arrabbiato Dov'è il capo? Eh sì Dov'è il capo? Un altro robot? Ok Diavoletti Adesso questo robot Prende vita E dobbiamo seguirlo Cosa? Cosa stiamo cercando? Cosa? Abbiamo trovato un indizio Cosa? Oh no Cosa sta succedendo Diavoletti? Oh no Cosa succede? Siamo rimasti bloccati Qui dentro Oh no Ok No Non cadere Spider-Man Non cadere Potresti finire in ospedale Eh sì Ali di ragnatela Ecco fatto Ok Adesso dobbiamo andare Dobbiamo andare Nella posizione Che abbiamo trovato Sì Dobbiamo andare Nella posizione Che abbiamo trovato Dai Che ansia Ecco fatto Abbiamo trovato Una posizione Era nascosta In quell'uccello Ok Ok Altri criminali Sì Altri cattivi No Voi non partirete Dai Adesso li attacchiamo Adesso li attacchiamo Devo liberare questi due in silenzio In silenzio Aiuto Aiuto Non devo farmi scoprire Non devo farmi scoprire Ok Come faccio? Ok Guardate Dobbiamo farlo di nascosto Non dobbiamo farci scoprire Cos'era Ok Diavoletti Dai Ecco fatto Abbiamo eliminato questa persona Ecco fatto Adesso Dobbiamo eliminare anche quella persona Ecco fatto Abbiamo eliminato anche questa persona Hai fatto presto? Sì Hai trovato qualcosa? Due cose I membri del gruppo si fanno chiamare Cacciatori Vengono da diverse parti Ok Vengono da diverse parti del mondo Sì 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 Ok Questi si fanno chiamare cacciatori Grazie Si fanno chiamare cacciatori Ok Andiamo Andiamo E attenzione Certo Attenzione Dove siamo diavoletti? Dove siamo? Oh Lì ci sono Sì Cosa? La base è operativa Ok Ok Attenzione Attenzione Dai Dobbiamo fare molta attenzione Dobbiamo eliminarli in silenzio Non devono scoprirci Dai Ecco fatto Piano 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 Sì Piano Piano Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ok Attenzione Attenzione Ecco fatto Piano 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 Dai Andiamo Andiamo lì Andiamo lì Ecco fatto Piano piano stiamo eliminando tutti Ma in silenzio Eh sì In silenzio Senza farci scoprire Guardate Lo prendiamo con la ragnatela E lo eliminiamo Sì Eliminiamo tutti Ok Già Ok Dobbiamo eliminare Craven Il loro capo si chiama Craven Ok Eliminazione Ecco fatto Oh no Mi hanno avvistato Aiuto Mi hanno avvistato Devo scappare Oh Ma io non scappo Perché Lotterò Guardate Sì Ho lottato Ed ho vinto Ok Ok Che ansia Che ansia Ce ne sono tanti qui Già Già Ecco fatto Dai Che ansia Diavoletti Mi avevano scoperto Sono finiti Ma mi avevano scoperto Ok vediamo Vediamo Cosa? Video di sorveglianza Hanno anche delle telecamere Ok Che ansia Cosa è ansia Craven Craven Chi è questo Craven? Ok È il cattivo Il super cattivo Adesso noi siamo proprio qui dentro Ok Andiamo sempre avanti Andiamo sempre avanti Che ansia Che ansia Cosa succederà? Cosa succederà? Secondo me succederà qualcosa di molto brutto Ok Stiamo eliminando tantissime persone Stiamo eliminando tantissime persone Ok E adesso? Dobbiamo scendere Ecco fatto Dove dove vai? Cosa? Che cos'è? Un'arma Wow Ok guardiamo attentamente Un robusto e Un robusto e flessibile Chissà se Bene Stiamo analizzando tutto Stiamo analizzando tutto Ma non devono vederci Non devono scoprirci È ora di collaudare Il mio nuovo giocatore Ok 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 diavoletti Guardate Già Che bello Guardate diavoletti Posso camminare su un filo di ragnatela? È così bello questo Spider-Man Ok Attacchiamo questo Questo cacciatore Già Di nascosto guardate Di nascosto Ecco fatto Ok Andiamo Ok E adesso? Usiamo un cavo di ragnatela Ok Creiamo un cavo di ragnatela Ecco fatto Così posso camminare E loro non mi vedranno mai No Loro non mi vedranno mai E posso anche Eliminarli Sì Posso anche eliminarli Ok Ecco fatto Ok Piano piano Dobbiamo eliminarli tutti Ecco fatto Dobbiamo eliminarli tutti Piano piano Così Non mi vedono Così Non mi vedono Non mi vedono Ok 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 Piano piano Ok Ok Adesso Dobbiamo lottare Dobbiamo lottare Oh 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 Guardate Mi hanno visto Quindi dobbiamo lottare Che ansia Che ansia Ok 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 Avanziamo 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 Dai andiamo sempre avanti Andiamo Sempre Già Avanzi Ecco fatto Andiamo sempre avanti Un laboratorio Perché siamo entrati in un laboratorio Guardate Siamo in un laboratorio Un'armatura Cosa Un'armatura Qui c'è un'armatura Wow Una ripropozione Per trovare punti deboli Non si è mai troppo prudenti con scorpion Un attimo Abbiamo trovato un'armatura Ma tu guarda che è roba Cosa è successo Dove stiamo andando Dove stiamo andando Ho un altro nome per te Grave Diamo letti Dove stiamo andando Dove stiamo andando Ok Aiuto Aiuto Non lo so Ma c'è un scordio Ti dispiacerebbe fare una ricerca Dobbiamo avvicinarci dall'alto Dobbiamo avvicinarci dall'alto Sta attento Ok Credevo che lì non si sarebbe mai più ripreso Dopo tutto quel tempo chiuso in cella E invece Hai il dente avvelenato Che ansia Che ansia Non dobbiamo farci scoprire da nessuno Da nessuno Da quant'è che non è Ecco fatto Dai dobbiamo sconfiggerli tutti Dobbiamo sconfiggerli tutti Ok diamoretti Mi hanno visto Quindi dobbiamo sconfiggerli Dobbiamo No 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 Vogliono colpirmi Vogliono colpirmi Ok Mi hanno Mi hanno visto Aiuto Perché mi hanno visto Mi sono fatto vedere Non dovevo farmi vedere Ok 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 Ai sottotiro Ai sottotiro Ok Ok diavoletti Ho sconfitto tutti Ho sconfitto tutti Eh sì Adesso cosa devo fare Devo esaminare tutto Dove devo andare Non sto capendo niente Non sto capendo niente Ok Che ansia Adesso mi sta salendo l'ansia Sì Mi sta salendo veramente molta ansia Cosa devo fare Ok Andiamo da quella parte Andiamo da quella parte Che ansia Che ansia Sembra sempre Cosa c'è qui Allora Cosa sta cercando Craven Il super cattivo Aspetta Cosa Vediamo Vediamo Scorpione Ma Black Cat Black Cat Chi è? Oh no Che cos'è? Aiuto Stiamo lottando con Un robot? Aiuto Oh no no Cosa sta succedendo Non voglio andare in ospedale Non voglio andare in ospedale È un micio robot? No non voglio guardare Non voglio guardare Questo è un micio robot Un micio robot Ok Ok Dobbiamo lottare con questi Mici robot Oh no 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 Vogliono colpirmi Vogliono colpirmi Ecco fatto Sconfiggiamo questi mici robot Ecco fatto Dai l'ultimo Manca L'ultimo No 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 Sono molto forti Sono molto forti Questi Questi mici robot Sono molto Molto forti Molto molto forti Sono molto forti Sento Proto Vai il morto Questi mici robot Sono potenti Sono potentissimi Sento Proto Vai il morto Andate via Questi mici robot Devono andare via Ok Qui ce ne sono altri Ci sono dei cacciatori Ok Sconfiggiamo questi cacciatori Già Già Oh no 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 Ok No Vogliono colpirmi Vogliono colpirmi Ma io colpisco te Ok Sarebbe più facile per tutti Se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo Ok Dobbiamo configgerli tutti 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 Ce l'ho fatta? Si ce l'ho fatta Ho sconfitto tutti i robot Tutti i robot Cosa proteggevate? Cosa proteggevate? Eh sì Cosa stavano proteggendo quei robot? Ok Andiamo sempre avanti Eh? Questi sono tutti i nemici Tutti i nemici Si sta facendo una squadra di cattivi Il super cattivo sta facendo una squadra di cattivi Eh? Cosa? Il super cattivo? Il super cattivo? Ok Questo è il super cattivo Diavoletti Karen Si chiama Karen Che ansia Che ansia Cosa succederà? Ok Guardiamo attentamente Cosa sono queste tracce tutte verdi? Questo è il super cattivo Ok Ha trovato i cacciatori Si Ha trovato i cacciatori Li abbiamo sconfitti noi Scorpion Scorpion Ok Questo è un altro cattivo Fa un buon viaggio Cosa? Il super cattivo è invincibile? Neanche con un colpo di Scorpion Non so Hai hai Fareva meglio Cosa? Stanno lottando? Scorpion è il super cattivo Stanno lottando? Cosa? Ok Cattivo è cattivo Stanno lottando Quindi Scorpion è fuori? Ciao ciao Scorpion Oh Il super cattivo? Ha fatto fuori un nemico? Eh sì Un cattivo Perché sono contro? Voleva scappare Questo cattivo Voleva scappare Il super cattivo? Oh Sono prete Felizia Cosa? Cosa succederà? Diavoletti guardiamo attentamente Sta per succedere qualcosa di molto brutto Ok 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 cosa succederà? Scusa davvero Eh? Mi giuro che la prossima volta Ti voglio bene Cosa? Giuro che la prossima volta Ti voglio bene Oh no Dove stiamo andando? Dobbiamo Dobbiamo salvare l'altro Spider-Man È in pericolo Ok Sta succedendo qualcosa di brutto in questo gioco Molto brutto Che ansia Eccoci Ok Diavoletti Adesso dobbiamo risolvere questa storia Dobbiamo risolvere questa storia Eh sì Sono proprio Spider-Man E noi abbiamo scoperto il nome del super cattivo Si chiama Kraven Il super cattivo si chiama Kraven Ma Perché ha fatto fuori un altro cattivo? Scorpion Avete visto tutti quella scena? Oh Forse vuole fare fuori tutti i criminali? Ma perché un super cattivo vorrebbe fare fuori tutti i criminali? Ok Dobbiamo continuare questo gioco Dobbiamo continuare questo gioco Volete il continuo di questa storia? Volete che Anto Spider-Man Continui questa storia? Grazie a tutti